poi la cosa al mio tavolo da l'altro giusto che dice fist fighter a due mani l'altro posso rubarmi anche questa torcia posso andare al mago tanto ah da quello che capita non ho magie quindi se vuol dire una magia devi trarre deve trarre delle pergamine praticamente bene c'è un pulsante ah qui c'è una roccia posso tirarla bellissimo gioco tommy mini gioco altra torcia si si tratta ste mie oh mio dio una chiave leggendo su libro cosa perché non c'è sconti la persona con la sonora durante il gioco le bellezze parola m sasso via stasera del tono la torsola torsola io non capisco una mazza quello che sta accendendo sai in che senso adesso vedo che l'abbè quindi non c'è avrà anche successivo sto muovendo e io sto ma non vedo dove vai ok ciao ah sì perché se non lo sapete essendo che già già la chiave aperto la porta lui è il migliore nel caso nel caso non aveste notato questo gioco non è multiplayer praticamente stiamo giocando visto che siamo abitiamo a 300 metri distante sono troppi stiamo giocando su skype stiamo giocando su skype stiamo giocando su skype e io sto facendo morire streaming su skype c'è scritto c'è scritto roccia roccia guarda la vera che è luce a pezzo simulista c'è una roccia nel muro che si potrebbe premere e qui c'è una chiave che non ha già posso dire mobile spettacolo si stacca fissato male che si sta capendo grande che dondolo si immobili non è vero dove sto andando c'è una porta c'è una porta quando ho parte parte prima allora io sono da qua qua sera il la chiave no c'è qualcos'altro però c'è un loot mentre qui 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 non sono stato ah ecco qua vai Gianni il tuo momento mio dio quali segreti ci saranno da scoprire intanto c'è un'altra torcia da ninjare non c'è altro non c'è altro è una lumaca gigante temo come si attacca eh ma fa culo ti ha fatto del male non capisco come si come si come si attacchi legend of green rock ok ok troppo si tasto destro testo che entrerci a non possono colpire giustamente ma pare stupido macca il sasperto anche quando questa cosa intanto è morto critical it's all critical 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 troppo troppo tutto coltello da lancio ma stupido ma stupido l'organizzata comunque vedete So che sembravano messi assolutamente a caso i nomi Però in realtà non sono a caso Sono i migliori musicisti trash della storia di questo mondo Se volete andare a fare un check Sono Gianni Drudi, Emanuele Castro e per gli anglofoni Gunther E sono veramente bravi E' più di Roma anche qua in giro, non sbaglio? Vieni Eh 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 Ah! Vieni Doh Che ne ho vedi un schifo Questa vado Knate in Sin Damacy con steroci del cazzo Ma Che non d'altro Ah! Faccia il pugnale Vi ho già avviato due danni col pugnale Ho un'altra maniera Ha 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 smesso di ignorarmi ma vai ma non c'è la vostra cazzo dei spell aspetta, 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 aspetta the rune pattern needed to cast them bene quindi serve tipo, devi fare tipo una devi cliccare solo certe rune per lanciare certe spell bello ti appare un pattern di 9 rune devi cliccarne tot per lanciare una determinata spell figata ah, non è vero, ci sono i numerini quindi si, devi usare il tasto numero numerico comodo bello, ci voglio prima cliccarli eh? faccio prima cliccarli sto tirando su qualcosa ah, sono tipo pezzi di carne di rumaca anche perché te hai fame, te hai notato si, c'è la food bar bello ah, ok se sono verde inizia a morire di... se diventa rossa inizia a morire di fame bello eh, questa l'era l'ho già tirata evidentemente si vedete che riprendi in mano ok allora, dicevamo aspetta che forse c'è ok non so dove sono sto perdendo ah, si si è perso cinque volte non è vero ho fatto una porta non è la chiave non è la chiave loing cloth bello un coso di lino protegge in maniera impressionante ma questo lo do alla tizia il loing cloth lo do... oh che schifo che schifo le scarpe le do a lui questo è cibo e basta e che è il mago non so ma con un terreno posto esatto è un verbo è un gruppo tipo bello bellissimo allora dove entrare la chiave deve essere qui da qualche parte ma non possiamo più in live sul primo livello ah qui non c'è niente qui da dove sono venuto qui c'era la torce oh oh mio dio come si apre la mappa m spero nooo non si apre con m ok siamo spacciati ah però ho trovato i vestiti aspetta anche un coltello coltello da lancio o un coltello basta penso sia un coltello da lancio tanto lo puoi no non è vero un coltello basta quanto è brutto sto tista ti prego nooo questa sia la persona più brutta che abbia mai visto in un videogame forse con esc tutorial nooo lo we cosa no ma no non so dove la mappa m n p l o qualche tasto si aprirà sta cazzo di mappa spazio ctrl alt shift tab ah ok io sono qua bene quindi in pratica se vado di qua qui dovrebbe esserci qualcosa cosa sarà pur qui da qualche parte sta cazzo di chiave se da qui ah ecco ok ci sono ci sono ci sono oh oh merda stava ben finita vabbè è un gran problema in fondo quattro cosa dice qua aspetta c'è un po' di e vabbè sì penso di dover tirare di là lo sasso che hai mancato Kentrich sì torcia ah ecco devo tirarla più in su e Gianni è sempre lui che salva la situazione ho trovato la chiave di qua cosa c'è sono già andato super equip un sasso allora spero devi trovare di sasso eh continui a trovare di sasso sono dispensabili di sasso sennò quella dietro non fa niente due fa che di scelta una faccia che è un video bruttissimo se non scrive il pubblico cura la mia vista ci vorrà con me devo fare gli occhi penso di sì le cristalli costo questo tipo 2 gatti uno per occhio per me ciao sono una rumaca no odio le lumache picchiatelo vaffanculo beccati questo perché mancano sempre sti mongoli guarda che che incredibile abilità di evitare i nemici il so che non è adesso è morta è morta è morta segnale un cattore da pochi cosa esplodo si no no ciao aspettate se ti rosa leva Ehi Ciao lumacca Ehi vieni Ciao Vieni Vuoi giocare con me? Dai stupida lumacca muoviti Ma perché hai chiuso? Che è uno xor Aia Pratica è inutile Ciao Ah niente Ho bisogno di un posto Oh Vaffanculo Mi ho chiuso dentro Nooo Ricombattere No come si esce Voglio uscire Mori Sto qui da lumacca Dai La sfiga che se li buttano nel posto della morte Una gemma Un danno loot I love loot Ho visto bene che si può dire Ah eh Così gira la visuale C'è una pietra qua Dove? Ah ecco come si tornava fuori Qui Che questa è l'uso rock Oh Ma vaffanculo Secondo Ma no no Prendi in giro Ma mi dico cazzo Aspetta mi sa che devo metterlo un oggetto qua Tipo questa torce E poi premere questo E poi E poi passare di qua E poi riprendermi la torce perché mi piace Se ne vuoi un po' Ma voilà Ne ho pochissime Ah ma la prendersi in automatico la roccia Una pergamena Una pergamena No l'ho dato che ti sto sbagliato Scroll fire boost Require skill fire magic 2 fail Cerai Ah hai ragione Ecculo Sono troppo forte Come faccio a fargli imparare Dai da sto destra Dammi da sto destra No Ci cazzi Ah ecco Che è successo Oh Wow Quanto sono forte Ah le puoi anche scoprire Cioè si ritiro a caso Tipo tiro Ah ti dico Scusi di quali sono No no Eh No 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 Non voglio saperlo Se no dopo è troppo easy Però Ah beh la cazzo di che ne trovo Devo fare così difficile Mi serve l'altra Mi serve l'altra No 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 lo sp betic apostle